Ciao, sono Stefano Sara, vengo dal team Selle Italia Borciotti Elite e sono Under 23 al primo anno. Ciao, sono Nadekko Edani, vengo dal team Trentino Cross LSMP e sono Under 23, quindi 20 anni. Esperienze in maglia azzurra precedenti e anche risultati più importanti a livello nazionale ed internazionale. Per fortuna ho avuto l'occasione di partecipare a tutte le prove di Coppa del Mondo da Junior e adesso sono al primo anno a Under, è un po' dura e ho ottenuto un sesto posto al mondiale di Tabor e un settimo posto all'Europeo di Verschel. Io ho sicuramente i due campionati italiani vinti nella categoria Under, quello di quest'anno recente, due settimane fa, e quello di l'anno scorso. La prova anche di domenica scorsa per me vale molto, anche in vista del mondiale, il nono posto alla Coppa del Mondo di Override, che conferma il mio buono stato di forma e speriamo. Parliamo di imminenti mondiali a Zolder, quali sono i vostri obiettivi, quali sono le sensazioni che avete per questo mondiale e se possiamo già parlare di eventualmente strategie in gara ed avversari? Diciamo che essendo al primo anno della categoria punterei più a poter riuscire a dare una mano, ma la vedo dura perché comunque il ritmo che hanno i miei due compagni è totalmente diverso e vorrei riuscire ad avvicinarmi il più possibile ai primi venti. Io, beh, fin le gare prima di domenica scorsa, ero un po' anche io, non ero sicuro di me stesso a livello internazionale perché comunque in Coppa del Mondo, oltre alla ventissima posizione, non avevo mai ambito, nel senso, non ero mai riuscito a riuscire, diciamo. E c'è domenica, così, è confermato comunque il mio stato di forma e mi ha sbloccato un po' questa cosa, anche se è solo una gara, però comunque con il nono posto e aver lottato, insomma, con i migliori, mi fa ben sperare, insomma, per un ottimo campionato nel mondo. Ovviamente, con i piedi per terra, nel senso, nella top ten, l'obiettivo, poi è ovvio che si corre sempre per arrivare prima di tutti gli altri e mai indietro, quindi, insomma, quello è il mio obiettivo, la sensazione è buona, insieme al mio CDS e il CT abbiamo lavorato bene, abbiamo preparato tutto e puntiamo a dare il massimo e se potrò anch'io dare una mano a Joelle, che comunque anche lui può ambire, non alla top ten, ma proprio alla maglia, quindi, insomma, siamo in due che siamo lì e spero di darci una mano e dare il massimo. Avete un motto? Certo, e vuol dire lento, vuol dire preciso, e preciso vuol dire più. Confermo. Grazie, ragazzi, e bocca al lupo. Grazie.